evviva e adesso ho il dito che tende tutto a sinistra e prima era molto peggio me lo sono anche raddrizzato padel padel addio dito in diretta su radio dj da casa perché non posso neanche guidare con tanto di dito nerotto però ci siamo ci siamo ci siamo anche stamattina buongiorno